dopo un pesce così l'equipaggio è frenetico ed è subito pronto a calare di nuovo le esche in mare prontamente anche riccardo ferra un pesce a fondale ma da come combatte non si riesce a capire cosa sia per lo stupore di tutti un bel san pietro arriva in superficie abbiamo un simpatico ospite a bordo che in disparte osserva tutto imperterrito però nella murata opposta capitan pastacaldi non molla e continua la sua azione di pesca bello in diretta in diretta ok Grazie a tutti. Anche questa volta un San Pietro di discrete dimensioni arriva in superficie. Complimenti! Veramente un bel pesce! Prima di ricalare, Maurizio con soddisfazione ci mostra il jig catturante. È un Fischus modello Denton di colore rosa, armato con un solo assist hook del 6-0. La canna si flette. Ecco nuovamente Pasta Caldi impegnato nel recupero di una preda ferrata fondale. Non sembra grande, però come potete vedere, sempre impegnativa. Anche questa volta un San Pietro di discrete dimensioni arriva in superficie. Grazie. 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 Grazie.